C'erano le istituzioni, c'era la cittadinanza, i dipendenti dell'impresa. In un'aula consigliare gremita il Consiglio Comunale Straordinario di Castel di Lucio è stato convocato per esprimere solidarietà all'imprenditore Michelangelo Mammana, vittima lo scorso mese di un atto incendiario, distrutto un mini-escavatore in un cantiere di motto da fermo. È nato un documento adottato da tutti i consigli comunali dell'Interland per la lotta di ogni atto di criminalità che colpisca il lavoro e lo sviluppo del territorio. Nel corso della seduta è stata ferma la condanna del sindaco di Castel di Lucio, Giuseppe Giordano. Rimanere a fianco di chi subisce è il preciso invito di padre Carmelo Lipari, parroco di Castel di Lucio, forte la vicinanza dei sindaci del territorio della Valle della Lesa, tutti presenti e tutti uniti nella condanna alla criminalità organizzata e nella consapevolezza di voler lavorare per il territorio. Di lotta contro l'omertà ha parlato Giuseppe Antoci, presente a Castel di Lucio, per portare il suo messaggio di quanto sia importante schierarsi al fianco della legalità. Fare impresa senza cadere nelle mani di associazioni mafiose si può, ha detto l'ex presidente del Parco dei Nebrodi. Il miglior modo di fare antimafia è quello della famiglia Mammana. Alla fine la commozione per Michelangelo Mammana si fa strada, mentre ringrazia quanti hanno dimostrato la loro solidarietà.